Inizia da Via Provenza il nostro viaggio attraverso le segnalazioni che ci avete inviato in merito alle zone che continuano ad essere rifugio di tossici e di persone che vivono ai margini della società. Via Provenza è una di quelle strade che da sempre era stata presa come rifugio proprio per il consumo e lo spaccio della droga e ci sono segnali che purtroppo questo ancora accade. Ci sono tantissime siringhe per terra anche tra un'auto e l'altra e anche al di là di questa rete che è stata sistemata, questa rete metallica, proprio per evitare che questo consumo di droga avvenisse. Ci sono tantissime le siringhe che abbiamo ritrovato anche al di là della cancellata in cemento che delimita la proprietà delle ferrovie dello Stato. Il nostro viaggio prosegue con il parco di Via Fraguittone d'Arezzo davanti alla prefettura ripulito dalle numerose siringhe appena un mese fa dagli esponenti di Casa Pound. Una situazione simile riscontrata anche al Pionta, al parcheggio Cadorna e in molti altri luoghi cittadini in cui sono state necessarie azioni di riqualifica. Quello che i cittadini ci rappresentano è un continuo stato di degrado in queste zone che ormai sono rifugio di tossici e spacciatori. Unica soluzione è il videocontrollo che potrebbe fungere da deterrente e da importante strumento investigativo.